signore e signori bentornati a mai dire meta non faccio neanche la solita introduzione perché non me ne frega un cazzo alla mia sinistra il dalemiano annuel drudi buonasera a tutti amici ascoltatori e alla mia destra il salviniano interista monti delle cose che hai detto la peggiore era al lato destra comunque monti montana non era barnes se vuoi ti dico anche vicentino 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 dice mamma mia comance vabbè a parte le cazzate che disperderemo per questo video cosa andiamo a commentare oggi andiamo a commentare oggi con un po di ritardo tra il mercato allenatore juve e altre puttanate siamo persi un po causa caldo abbiamo dovuto rimandare causa caldo causa calcio commentiamo il full season full season del 9 del 9 che ha visto ai nastri di partenza 160 circa 165 numero preciso poi lo vedremo giocatori quindi ottimo risultato ottimissimo risultato per un evento in cui ancora non era legale modern horizon modern horizon che come si è visto in queste ultime settimane soprattutto su mtgo dove si gioca abbastanza legacy con vren ha visto un bello scossone andiamo subito alla prima grafica prima grafica o veloci cosa mi dite di questo prima in questo meta per archetipo di metà e monti a che caratteria ok grisys control con narset secondo me aveva guadagnato parecchio non mi sorprende per niente vederlo in cima e la cosa interessante è vedere che ur ed elver è ormai decisamente l'elver deck più giocato ma non è più ur agro ma ur tempo e questo è dovuto a arcanist era legale giusto e poi siamo anche sotto l'estate quindi i mazzi da spiaggia come ur sono in questo periodo comunque arcanist una carta che fa meno race rispetto a storm chaser ma permette garantisce vantaggio carte eccetera quindi è una bomba assoluta per delver è il motivo per cui praticamente ormai tutti delver giocano rosso e poi vedremo il fatto che abbia soppiantato nell'arco di neanche due mesi in cui ci sono stati sia teramandra che light up dei stage che dovranno essere le nuove carte che avevo portato avanti l'archetipo fa ben capire quanto la carta sia forte anche se inizialmente ammetto di aver avuto molti dubbi su su arcanista perché comunque parliamo di un 1 3 a costo 2 che in un archetipo dove i costi superiori a 1 e abbondano perché parli perché tra nemesi piromante o altre carte comunque fai fatica inserire una carta del a meno che non sia una vera bomba il fatto dimostravo di essere più forte delle altre carte alla fine questa qui si si sa come carta potenzialmente figa per capire quanto l'avrei voluta testare è vero che ci ha pensato altra gente al mio posto poi l'ho provata anch'io mi sono convinto altra gente altra gente molto più forte ma la cosa che mi ha stupito dopo entriamo nel dettaglio ma cosa mi ha stupito questo divario di cinque unità cosa che di solito non si vedeva ad esempio miracoli e land di solito si vedeva un graduale aumento fino almeno a 10 a 10 unità di mazzo invece quasi proprio una scissione che si vedeva qualche mazzo che presenti in otto coppie in nove in dieci da qui sembrerebbero esserci quattro tire one e poi altro esatto di questo poi volevo dopo tornare sui sui tire volevo far vedere i post walkers che ha questi nuovi press walker ovvero oggi nuovo che è nuovo soprattutto hanno che hanno modificato abbastanza mazzo dopo c'erano uno due bigel darvi uno mi pare ce ne fosse sicuro e post walkers io ci ho buttato dentro sia quello puro puro ovvero quello con tipo solo place walker e le balliste sia quelli che giocavano tipo solo i not seer mi pare mi pare di nemmeno messo dentro quello solo i not seer e poi mille place walker fino a nove nove place walker e quello secondo me è un mazzo perché vedremo che ha reso abbastanza bene per il resto a parte i soliti noti e questa crescita di world velver tempo non vedo niente di particolare tra i mazzi giocati se non la solita scissione che qualche volta accade qualche volta poi ritorna su tasse da tasse maverick qualche volta tasse molto più giocato poi qualche volta maverick si spartisce con tasse l'altra cosa è la totale praticamente scomparsa di shadow shadow è morto finito morto è sepolto penso non siamo che quando il meta tende più a rosso shadow non è particolarmente te monta cosa avete realizzato per la scomparsa di shadow allora intanto il fatto che siano stati stampati place walker a costo tre eccetera quindi carte che sono piuttosto snelle quindi tu o le counteri oppure devi perdere un turno di race ad attaccarle oltre avendo solo quattro delvere volendo la combo con di street race reanimate da fare di primo e anche shadow di secondo non è così facile pressione nei primi turni prima non era un problema perché non c'erano dei place walker da uccidere nei primi turni quindi questo è un problema poi in generale che ad esempio un match up peggiore rispetto a miracle per shadow per lo meno lo era nelle versioni vecchie dei mazzi perché a nemesi oltre che spiga è insomma un po più più snello a pescare carte senza fare niente è un po un problema quindi secondo me shadow ha perso molto e soprattutto tutti gli altri libri sono potenziali per via di arcanist e shadow no allora hanno intanto il tuo vice il tuo vice allontanano è bello che siamo a tre stanze di di distanza qualcuno aveva provato a shadow con arcanist o sbaglio e l'ho anche peccato su mtg o ma il fatto è che comunque shadow se se vai sporcare la mana base a parte i vari problemi di mana ti trovi nei mirror di delver che magari devi accedere al rosso e per farlo devi prendere tre danni che le vulcani che insomma si incassina troppo la mana base secondo me e perdi la maggior parte delle carte forti come possono che è il vantaggio di avere una mana base snella appunto c'è lo stesso problema che a war e delver rispetto a grixis a grixis penso che la questione sia identica sì sì che war e delver sembra nonostante sia meno forte perché ha meno carte forti avendo accesso a un colore meno è molto più stabile e quindi spesso nei mirror di delver questa è una cosa decisiva bene di altri mazzi una cosa che imbarca un po' l'occhio secondo me è ormai la popolarità superiore di slow ders rispetto a turbo perché probabilmente slow in realtà è probabilmente meglio io non sono così sicuro che sia molto meglio però un leggermente dovrebbe esserlo e i soliti pochi di animator in italia già è un minacolo che ce ne fossero due iniziano a parire bomberman inizia a parire bomberman di cui poi parleremo analizzando la lista e per il resto come potete vedere una quantità di monocropi c'è di animator rector che non è un mazzo di magico oggettivamente che l'ho visto è una lista un po' buttata a casa anche il rianimator mentor non è che rispetto rispetto per il rianimator mentor rispetto dicimi una cosa che non faccio un torneo da dicembre tipo ma show no e mi ricordo staccato faceva schifo a fare schifo la gente faceva schifo sì sì faceva schifo e quindi ancora hanno continuato a giocarlo senza un motivo specifico giusto adesso vediamo adesso intanto cambiamo grafica vediamo un attimo la ripartizione come possiamo sempre vedere live motive di questi mesi quasi ormai un anno tutta questa stagione diciamo che si è chiusa poi con questo evento combo contro leggo contro in perfetta o quasi parità da che sciamano se ne andò perfetta parità e questa è una cosa non si sente più niente hai gracchiato come una rana come un vice nella sua luce chiare boom morto finita niente non si può così è stato bello così monti siamo direi che la sento cioè va bene facciamo parlare un po annuel diciamo che l'assenza di sciamano e anche di probe diciamolo ha aiutato la questa cosa tra l'altro parliamo di un meta anche bello vario perché non c'è un solo non ci sono solamente due archetipi per tipologia qui abbiamo una buona una buona divisione mi pare di capire sì sì in questo momento puoi giocare quasi di tutto guarda guarda il combo guarda i contro contro c'è di tutto c'è un esper senza le mistiche e poi c'è basta vedere anche basta vedere anche i delver che ora adesso questo questo torneo è stato fatto per il modern horizon però adesso ci possono essere motivi anche per riprovare canadian questa è una frase che dovevo dire ho gente che mi paga per diffondere il verbo del giusto vediamo se monti è tornata la voce prova 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 ci sei te cosa vedi in questi grafici queste queste ciambelle e ci vedete voi credo io io ci vedo io ci vedo anche dei mazzi simpatici negli agrocontro che non sono delve vedo uno sti stompi di dasi che ha fatto molto bene vedo un ninja vedo l'espervento e blue wave per chi non se lo ricordasse è quello che chiamano carneretto e ottene detto come saghe quindi c'era goblin col blu a questo torneo no goblin col blu non c'è non c'è neanche vice probabilmente vanno insieme esatto esatto la c'è a mono se fai il breakfast che è sempre uno spettacolo vedo phoenix storm si vedo sono tante cose fighe umani come al solito che c'è e c'è umani è sempre quello ad un due mentre l'eroe con merfolk bu a bag delver a bag delver e tra l'altro vedo mono blu delver che tra l'altro ogni tanto compare non è male non è ok è molto forte contro combo e gioco quando becca agro insomma non sta benissimo credo però vabbè va bene come come le muro cosa c'è niente tipo cioè prima di rimbalzi ma dei dismembero dei rimbalzi tanta roba tantissima roba vediamo andiamo un po su uno specifico vediamo che cosa ha fatto bene e cosa ha fatto bene è goblin goblin lista terricolo goblin lista terricolo che non voglio spoilerare dovremmo farlo dopo lo vediamo diciamo non intuitive le scelte scelte dettate da grande test del maestro terra che poi vedremo un miracoli un miracoli un miracoli in top 8 e uno solo in top 16 che è la lista di claudio solita sua lista poi anche quella vedremo sti stompi di blasi di scontro di tocchi il mono bigel dazi quindi l'unico post c'era anche un ugi post comunque il post che era bigel dazi quindi con meno pace walker ha fatto top 8 ed abbastanza in giornata e qualcuno gli ha legato anche delle partite quello va detto però comunque lì c'è arrivato e quindi vediamo abbastanza controlli in top 8 l'ander lo consiglio sempre un controllo come una spezzatina di combo esatto e un solo combo e combo si dipendono solo di top 32 anche in top 16 due combo sono abbastanza pochi sinceramente ne abbiamo visti in media 4 di solito non solo ti sento triste c'è quello che c'è lui vuole un top di solo combo vedo top 16 uno show and tell che era il secondo mazzo più giocato è fatto top 8 però eh è fatto top 8 però insomma si complessivamente poi vedremo le percentuali ma non mi sembra però vedi top 32 4 eh mazzo più presente top 32 non si si riprende in top 32 in top 32 vediamo anche ci fa il breakfast che ha avuto un boost da da teferi è un mazzo giocabile diciamo in realtà secondo me in questo momento è giocabile tutto non c'è qualcosa che dici è ingiocabile è un cesso team america forse vabbè team america a parte dei mazzini addirittura è diventato giocabile charles adesso con i gnoceronti anche secondo me è giocabile charles lo dico subito che bomba c'è il monowu delvers force of negation anche c'è monowu canadian uv grixis no aspetta grixis no scusate grixis non c'è grixis e team america i due delver che non ci hanno fatto c'è anche un infect non lo so infect u g oppure anche lui con lo splash di bianco era solo u g mi pare u g che è stato anche in streaming e solo u g anche in top 16 delver non è andato benissimo ci sono solo i due u r delver solo due u r delver e basta sì ma delver possiamo dire che non siamo più i fastidi un tempo in questo momento o no ma quello questo momento secondo me delver è tanta roba e magari quel torneo no sicuramente no questo momento intanto in un momento in cui c'è modern horizon e badiamo che questo torneo non c'era sì appunto appunto intendo quello comunque c'è molto da lavorare su delver però la carne sul fuoco non manca quello sicuro poi dopo può capitare l'evento in cui la strategia performa meno però adesso bisogna vedere come verranno adattate le nuove carte a questi archetipi allora novità 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 non c'è più la media punti c'è più la media punti perché sono riuscito corrompendo dei judge che che faremo togliere dall'albero dei judge ad avere la lista dei droppati lista dei droppati in base a quella sono riuscito a risalire al numero di partite giocate e quindi a farla a media punti no? abbiamo numero di giocatori come potete vedere vabbè win rate a sinistra archetipo numero di giocatori poi match vinti match persi match pareggiati e il totale dei match e questa è la prima rite grafica perché non ci stavano tutti insieme quindi qua vediamo tutto il feed premessa premessa è che ovviamente le parti intenzionali degli ultimi turni quelle che almeno riesco a sapere quelle dei giocatori giocatori nelle prime posizioni ovviamente non sono state contate perché non sono partite giocate non sono state contate le partite in top anche perché la top non si è giocata ma comunque non le avrei contate e poi basta eh sì vabbè i buy quello non ci si può fare niente non posso risalire a chi aveva o meno il buy quindi quelli ci sono erano 8 turni ci sono 8 buy o forse di meno di sicuro uno c'è perché eravamo in 163 quindi un tot di buy ci sono che hanno sballato però diciamo che è abbastanza fedele mi sembra mi sembra che comunque la media la media punti forse meno figa della della win rate anche perché win rate poi la puoi sommare torneo dopo torneo e ti viene qualcosa di più interessante accumuli più match e ti viene qualcosa di molto interessante non so come la pensate voi sì sì è meglio è meglio decisamente poi soprattutto qua come suggeriva Monta almeno indicare partite pareggiato vediamo che miacoli ha pareggiato sette partite per dire ma sto con più pareggi ma questo non c'era sto pierce sì esattamente lenz dove sono le lenz perché mi aspettavo più pareggi le parti di lenz solo uno cosa strana evidentemente non ci arrivano a giocarlo cosa assurda nick fit bug tre pareggi una roba mono giocatore con tre pareggi l'ho mai vista comunque andando a commentare nello specifico vediamo tra i mazzi vabbè iniziamo con quelli che hanno fatto pronto i monocop vabbè poi abbiamo monowood elve goblin due in top ci sta che abbia un'ottima win rate e e maverick maverick ottima win rate in 5 maverick qualche altro era anche abbastanza rappresentato quindi era abbastanza rappresentato sì ma anche post walkers sotto alla fine erano in quattro vediamo ecco vediamo adesso vediamo per tipologia iniziamo dai controlli andiamo in ordine controlli controllo fa un po' meno bene rispetto miracle l'ha fatto piena cioè miracle l'ha fatto pietà miracle l'ha fatto decisamente pietà ma poi è una cosa che abbiamo visto anche quando facciamo media punti in alcuni tornei si vedeva proprio i miracoli male adesso i tornei specifici non mi ricordo però mi ricordo che c'erano i tornei in cui il miracle faceva veramente fatica però c'era comunque un giocatore che riusciva un giocatore c'è sempre poi è sempre quello però vabbè sì esatto sì io direi che il mazzo di Claudio lo possiamo anche considerare un mazzo a parte sì lo giocavano solo lui e Goodbrod e Goodbrod ha fatto perfect al side event e ha fatto penso 6-2 6-2 al al main area quindi con un 6-2 e una top 8 il win rate è comunque del 40% c'è da farsi qualche domanda probabilmente c'è da dire che gli altri hanno fatto veramente nerda punto ma questa è una cosa che poi su cui quando analizziamo la lista poi discutiamo che è una cosa che mi pare molto mentre dirsi sconto adesso trovare una win rate forse dalla grafica dopo una win rate ottimale di base non so già 50% per un mazzo giocato in 14 unità non mi sembra male sinceramente un un 50% certo fare meglio anche perché sono 10 punti di distacco tra miracoli e grissi sconto che vuol dire che per quanto abbia fatto male il miracoli grissi sconto ha fatto discretamente se non ha fatto ottimamente ha fatto discretamente se andiamo giù dai combo vediamo che il show ha fatto 52% quindi anche meglio di grissi sconto compagno il show è in salita finalmente il show è in salita finalmente è un finalmente ironico immagino è un finalmente che constata lo stato delle cose non è né polemico né altro vediamo un anno tipo adesso sembra essere un mazzo si sembra essere un mazzo anche perché per questo giro i numeri hanno hanno avuto parzialmente ragione il fatto è che in realtà ci credo poco a questa cosa perché i numeri sono sempre rimasti quelli indipendentemente da quello che poi i fatti era limitato quindi stavolta andrà bene anche se è vero che il metto è molto cambiato negli ultimi mesi non abbiamo avuto altri tornei in mezzo se non lo vino che non ho fatto il video poi lo farò penso ma comunque di show non mi ricordo se hanno fatto forse uno show ha fatto top 8 uno è in top 16 non ricordo precisamente ci hanno due elfi di sicuro e e con questi questi play work forse il show di rimbalzo ha guadagnato qualcosa non ha guadagnato qualcosa direttamente non lo so mettersi all'avventato possibile possibile possono essere cambiate delle versioni di show vabbè allora poi vediamo in questo torneo non c'era una lista di show ibrido che è lo show quello con anche i cunning wish e tutto tra te mentre no scusami non c'era nessuna lista di sneak and show senza cunning e con solo due omni io più che altro stavo parlando parliamo sempre di show intel comunque bicolor con il rosso oppure è venuto fuori qualcosa tipo con il bianco allora ce ne erano qui ce ne sono 14 c'erano non c'ho la grafica perché non l'ho messa comunque c'erano circa 5 mi pare 5 con con il bianco 5 omni con il bianco 5 omni con il rosso o 4 e 4 e i restanti sono sneak ibridi quindi 5 omni con il bianco è un dato rilevante perché è un mazzo cioè abbastanza diverso tutto sommato no? si si giocano c'è qualcuno che giocava i mentoli hanno fatto abbastanza male da detto però erano liste non ancora rifinite ancora si qualcuno giocava anche mentoli di main che oggettivamente fa merda non ne vedo il senso però te per i di main e mentoli side può essere figo si è il senso di essere Gesù di Parma è questo il senso non stupisce nessuno e come vediamo gli animatori hanno fatto pietà Ant ha fatto pietà Aluren giocato sottoscritto dal maestro Terra ha fatto pietà e quindi c'è poco da fare mentre c'è Fight Backfast e Bomberman hanno fatto abbastanza bene incredibile incredibile forse no Bomberman non incredibile c'è Fat di Backfast abbastanza può essere un caso come può essere cosa? speriamo sia un caso ma no dai c'è Fat di Backfast è un mazzo deceno mi ricordo neanche come funziona mi ricordo che mi inquietava sì penso che nessuno l'abbia mai visto chiudere io non penso non avevo mai giocato contro forse no ho giocato contro di recente la prima non avevamo neanche capito che cosa fosse poi in G2 ci fa vedere qualcosa però aveva il piano aveva il piano B post side abbiamo perso di quello ah e poi dopo G3 asfaltato ha vinto da Gobetti che ha sbagliato a leggere una carta ha fatto passare una carta che poi l'ha inculato malissimo vantaggio di giocare carte di merda esatto e tra l'altro ci fa il breakfast è il mazzo è il mazzo di tocchi ed è il mazzo di Avie Dominguez ah l'ha inventato lui dovrebbe averlo inventato lui tra l'altro chicca chicca dovrebbe averlo inventato lui Ramp da Dio avrei percentuale portata su da ovviamente di Real Dazzy Post UG ha fatto pietà Post Walkers comunque un 57% non da buttare via non da buttare via Prison stazionari con anche Dagon Stompili stazionari Dagon Stompili secondo me non è il suo miglior momento anche se con l'arrivo di Vren forse qualcosa potrebbe dopo poi commenteremo perché cosa dite no anzi commentiamolo subito visto che Dagon Stompili poi dopo non abbiamo Dagon Stompili capito Dagon Stompili cosa c'entra con Vren allora collegamento è questo ho visto molte liste ah il meta ok ho visto molte liste di Vren con tricolor quadricolor di tutto e anche di più cosa dite di Dagon Stompili può essere una soluzione o no o è un cesso comunque no credo ci stia come valutazione ho visto anche un Dagon Stompili che giocava le lune no al posto delle lune i soli giocava immagino le lune e i soli al posto dei Magus no no giocavi i soli al posto delle lune non giocavi Magus e giocava Punishing Fire e i Yeldraad si con i Yeldraad e i Yeldraad però penso che sia una lista a sé stante allora diciamo i Panishing Fire sono forti contro tutti questi pacewalkers effettivamente non è che tante risposte pacewalkers ha risposte picchiandoli beh quando giochi tutti quei goblin lì che picchiano insomma non dovrebbe essere un grosso problema comunque magari te lo sto più o te dai d'occhio perché potrebbe tornare ma ci sta alla ribalta perché Bren ti permette di se la giochi in quadricolor se riesci a risolverla ti recupera subito una terra e da lì in poi insomma dovresti essere colmana quindi non è un costo così alto e ti permette di giocare quadricolor se vuoi anche se è comunque abbastanza rischioso cioè non è sciamano però è comunque esatto secondo me il problema di Bren è che la gente sta confondendo questo nuovo planeswalker come un secondo sciamano più che altro fa anche ridere che pensiamo stiamo tutti dicendo che Bren è fortissima immaginatevi trono sciamano non riesci né a ammazzarlo né a riprendere le terre avrebbe abbastanza ridere sinceramente come scena però per fortuna sciamano non c'è più quindi e per fortuna dai è una grande cara ancora delle vedove di sciamano ce ne sono ce ne sono farioli ce ne sono di vedo di sciamano e dato molto interessante tasse e maverick con match vinti e persi completamente opposti e 22 vinti da da maverick e 13 persi mentre al contrario per quanto riguarda tasse un divario nella win rate clamoroso clamoroso allora anche tasse io ricordo che faceva schifo ha più avuto momenti belli negli ultimi mesi o tasse e show sono sempre stati quei mazzi ultra cioè rappresentati eccessivamente però come come risultati sono sempre stati molto altamente c'è stato un momento forse a inizio anno lasciando perdere il torneo limitational vinto da Buschi quella è stata proprio una scelta dovuta a un meta che si aspettava e lì ci ha preso la grande la grande cartomante del meta grande paolo all'uspico del meta quale è Buschi però in generale non c'è mai stato un momento un momento io penso che parte del divario sicuramente maverick è migliore perché altrimenti un divario del genere non si spiega è anche vero che secondo me maverick rispetto a tasse è molto meno difficile da giocare quando non hai fiala è veramente complicato da gestire insomma quindi potrebbe essere potrebbe essere uno dei motivi inoltre tasse ha dei critter molto molto esili dall'altra parte nel dubbio quando non sai cosa fare puoi puntare su un cavaliere gigante e sperare di chiudere in due passaggi appunto un ciccione e poi vediamo che succede che poi non vuol dire che sia semplice maverick però diciamo che è più difficile rovinarsi da soli completamente la partita come invece anche se fai un solo errore a turno due per dire sbagli a spensare le bestie delver ottima win rate in generale nello specifico vediamo come grixis delver sebbene fosse il secondo delver rappresentato non abbia fatto nessuno non abbia piastrato nessuno in top 32 ah no che il peggiore sia la team america è una cosa molto molto strana eh molto ci stupisce questa cosa annuel cosa dici di grixis delver beh contando il fatto che il mazzo più rappresentato fosse ur delver tempo che ha una mana base nettamente più solida non non mi stupisce un po' il fatto che quale sia il perché della sconfitta di grixis i tricolor che non sono in grado di proteggere le proprie terre a differenza magari di canadian eh non sono cioè fanno comunque fatica a reggere un paio di vaste secondo me poi tra l'altro non so come fossero questi grixis delver se avevano arcanista oppure no però ad esempio le versioni con arcanista tendono hanno sono ancora più fragili dal punto di vista della mana base perché cercano di mischiare dentro molte più carte rosse rispetto alle versioni vecchie mere anche per gli scarti si e dopo dici aumento le terre rosse cerco di fare un equilibrio cerco di avere un equilibrio tra mari vulcaniche aggiungo la bedland tengo le tengo la monobasica sono tutte domande che è difficile cercare di dare una risposta in una maniera eh adatta soprattutto quando si sta quando si è ridosso di un torneo e in questo caso direi che la risposta è stata inadeguata per quanto riguarda gli aggro vabbè eh sono invertiti merfolk e umani nel senso che umani hanno una percentuale migliore poca roba e goblin ha fatto disastro si può cosa fare a parte cut ha fatto merda il resto la lista del tericolo ha spaccato qua qua la grafica è sicuramente più interessante eh tra lasciando la prima a sinistra che sono tutti i mazzi poco giocati che abbiamo già visto in quella generale andiamo su quelli leggermente più giocati vediamo maverick frost walkers blade slow depth e poi elfi eh il 50% di slow depth secondo me non è particolarmente buono come risultato quindi sotto il 50% direi che assolutamente non è non è un risultato considerarsi buono quando varchiamo già al 55 tipo stone blade secondo me fa un buon risultato e anche post walkers maverick invece vabbè non c'è neanche la discussione stone blade uvr se ne vai a vedere che nell'altra grafica qui sotto i 4 che ce ne erano 2 fatto un 40% quindi sono già 15 17 anzi 17 17 punti di stack che sono tanti sono veramente tanti e e anche vediamo la differenza tra well ed elver e well ed elver tempo quasi 10 punti quindi well ed elver tra i well ed elver c'era un poi vediamo comunque c'era uno con la fenice c'era e mentre gli altri erano prowess ma il fatto è che la carta più forte dell'archetipo non è adatta che all'altro quindi mi sembra veramente è saltato la carta più forte non è adatta? è adatta a una strategia e molto meno all'altra è più adatta alla strategia tempo comunque agro control rispetto a quella puramente agro poi in realtà si potrebbe anche provare in warry barn e arcanista perché le alternative sono gli storm chaser che comunque per quanto possano essere la rapidità sia una cosa figa è comunque una cattura che da sola fa un release abbastanza di topolino soprattutto senza probe però è anche vero che ur era buildato agro perché fondamentalmente a livello di power level era inferiore agli altri delver e quindi aveva bisogno di chiudere la partita più velocemente adesso che c'è quest'altra carta il power level si è alzato nettamente e si può anche giocare una lista un pochino più lenta che giochi le wasteland che risolvono dei matchup da sole o per lo meno ti danno delle chance che altrimenti non avresti e per invece inizia ad andare ai matchup più giocati vediamo proprio comunque lì si scontra uguale a tempo sono lì insieme a Sho disastro totale di Miyacoli come abbiamo visto prima cioè dai 10 ai 13 punti di stack cosa brutta 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 Miyacoli ha da tempo il solito problema che abbiamo detto più volte che fa fatica a buildarlo stanno facendo un enorme fatica a buildarlo e questi nuovi cambi non aiutano cosa che Grixis contro il 50% preciso prima l'avevo visto male mi sa non è che sia eccezionale anche quei risultati lì beh però sono di più però sono di più degli slow death mentre slow death erano solo 6 qua man mano che vai avanti certo certo quelli che eccellono diminuiscono e quelli che fanno più merda dovrebbero aumentare tenersi su un 50% perché vedi anche quello del tempo non vedremo mai delle cose clamorose per questi mazzi qua almeno dei mazzi sbloccati hai detto massacono Grixi modern l'ho detto proprio quello altro spauracchio del futuro